Ciao ragazzi, finalmente siete tornati a scuola, al 50% in presenza, che già garantisce una certa sicurezza. Però vogliamo essere ancora più tranquilli. Per questo da giovedì potrete fare il tampone veloce con tutta la vostra classe per avere maggiore sicurezza nella vostra classe, nella vostra famiglia, tra i vostri amici. È importante aderire, se siete minorenni dovete portare il modulo firmato dai vostri genitori e aderite con la vostra classe. Avremo quattro punti, uno al campus scolastico, uno al mengaroni per le scuole del centro, uno al cecchi e uno all'alberghiero. È davvero un'operazione molto importante che vi consentirà finalmente di tornare a scuola insieme ma nella massima sicurezza possibile. Aderite mi raccomando e fate aderire i vostri amici.